Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il re della reddita Cancelletto 1, farò la recensione di un film del 1984, Nightmare, dal profondo della notte, a Nightmare on Elm Street. Cinque amici adolescenti sognano un uomo dal volto sfigurato, con una voce spaventosa, e un guanto da giardiniere con dei coltelli al posto delle dita. Si rendono conto che quello che accade nei loro sogni accade davvero, e che l'unico modo per sopravvivere è non addormentarsi, è giunta l'ora di pagare un debito sepolto nel loro passato. Il mio voto a questo film è 10, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione e la sceneggiatura, e l'ingegnere dell'orrore, la durata è 1 ora e 41 minuti, il regista è Wes Craven, la regia è buona, bravo regista, la prima data di uscita negli Stati Uniti, il 16 novembre 1984, il budget 1,8 milioni di dollari e 1,1 milioni di dollari, l'attore è Wes Craven, bravo attore, nel film anche Robert Englund, Peter Langenpump, Johnny Depp, John Saxon, Amanda Wiss, Yus Garcia, Ron Blackley, Charles Flesher, Josep Whip, Lynn Shee, Joe Unger, Mimi Craven, Sandy Lipton, Ed Cole, Charles Bernstein, Jax Aitkin, Jax Aitkin, Chuck Russell, Samuel Bayer, Jack Shoulder, Stephen Hopkins, Henry Arlin, Raquel Talai, David Andrews, Ronnie Yu, Donna Woodrum, Jeff Levin, Lynn Sheeve, Milmeyer Craven, Nico, Huggs, Peter Lengamp, Sarah Shee, Shee, Sheer, Sheer, Jack Shea, Charles, Bellan, Bellardinelli, Mark Patton, Josep Wolff, Lisa Wilcox, Lisa Zane, Kim Myers, John Richard Peterson, Tuesday Knight, Jack Shea, John Beckman, Ken Sagoas, Danny Assel, Saluto, Samubrina, Citta, Liciotola, Markolf, Magellan, Ale, Amico di Ale Gianluca, Ilaria, Mariuccia, Festival, Michi, Robby, Toni, Cante, Domenico, Leo Tassoni, Peter, Tim, Giulia, Alessio Uga, Michele Trigigliani, Favijay, Picchiatore, Daniele, Danielios, The Rock, Orto, Bulluni, Ivan Drago, EteDFain122, MrBikeTV, il canale PNC, Rentboy, Henry, Ragazza di Henry, Isoragli, Il Triummedusa, Nico Rota, Fabio, Flavio, I Dancing Queens, Marco Fo, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.